Il 7 e l'8 giugno 1970 si votò per la prima volta per eleggere il Consiglio regionale. Da allora, tra dibattiti sull'utilità e sulla funzione dell'ente, tra conflitti di competenze, tra riforme in senso federalista, sono passati 50 anni, mezzo secolo in cui la Puglia ha subito tante trasformazioni. Per celebrare l'anniversario, il Consiglio regionale ha avviato una serie di eventi che partiranno la settimana prossima con la mostra che si terrà nella sede della Regione Puglia. Sono stati 50 anni per la nostra regione di straordinario impegno politico e culturale. La Regione Puglia in questi anni ha visto una crescita importante sul terreno economico, sul terreno sociale, processi di modernizzazione importanti, sviluppi di infrastrutture non di poco conto, anche se abbiamo ancora problemi. Il ruolo delle Regioni, la sua missione è ancora oggetto a un dibattito importante, così come è aperta la discussione del rapporto tra lo Stato e le Regioni, questione che si è sempre più accentuata anche in un'occasione dell'emergenza sanitaria. Nello stesso tempo io penso che anche sulla autonomia differenziata, che per il mezzogiorno sarebbe una sciagura, occorrerà continuare a combattere politicamente per mantenere il Paese unito e per cercare di assicurare al mezzogiorno tutte le risorse necessarie per il rilancio, sapendo tutti ancora una volta che senza il mezzogiorno il Paese è difficile che possa raggiungere livelli di sviluppo e di produttività e di crescito co-pazionale impegnativo. Queste sono le sfide che abbiamo davanti e che bisognerà affrontare nei prossimi mesi.